Presentata questa mattina la Notte Europea dei Ricercatori 2022, organizzata dall'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Proporremo esattamente lo stesso format dell'anno scorso, quindi l'evento si terrà qui nel campus a partire dal pomeriggio, con un ricco programma di manifestazioni teotrali, laboratori, esperienze partecipate, seminari, concerti, recital, visite ai laboratori e agli stand scientifici, dove ciascuno potrà toccare con mano la quotidianità dell'attività di ricerca scientifica e le ricadute di questa attività nel quotidiano. Alla presentazione dell'evento nella Sala Consigliare del Rettorato nel campus universitario di Chieti sono intervenuti il Rettore dell'Università degli Studi D'Annunzio Chieti Pescara, Sergio Caputi, il Direttore Generale Giovanni Cucullo e il Professor Arcangelo Merla, delegato del Rettore alla terza missione di Ateneo, nonché responsabile del gruppo di lavoro che organizza l'evento. Un programma al solito molto ricco che quest'anno si incentrerà sul motto che abbiamo scelto, che è il sapere che include. Quindi quest'anno noi vogliamo parlare di inclusione, di come la ricerca scientifica permetta l'inclusione in tutte le forme possibili e immaginabili. Se pensiamo a quello che ha fatto la medicina per permetterci di tornare ad avere una vita sociale o se pensiamo per esempio a quello che si può fare con le politiche di parità di genere, per esempio, o sulle politiche socio-economiche per la lotta alle diseguaglianze, beh, questo sarà il tema che noi affronteremo. Quindi avremo una serie di seminari con ospiti illustri, non vi posso anticipare che siamo in via di finizione del programma, che appunto discuteranno queste cose con chi avrà piacere di venirci a trovare. Il sapere che include appuntamento il 30 settembre al campus di Chieti, ma anche al campus di Pescara e magari nelle location delle due città. Lo scorso anno noi abbiamo avuto circa 10.000 partecipanti qui nel campus, con un contributo, ripeto, molto forte dalle scuole, dalle famiglie e anche dai giovani potenziali futuri studenti dell'Ateneo. Quest'anno che non abbiamo le limitazioni al Covid, speriamo che non si confermino queste limitazioni, ci aspettiamo un impatto ancora più significativo e al solito saremo attrezzati con la logistica come negli anni precedenti, quindi parcheggi scambiatori, navette gratuite, una forte attenzione all'impatto e alla sostenibilità della manifestazione.